Il percorso chirurgico-ortopedico di San Lusso Hospital è un percorso complesso, completo, in una struttura accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale che permette al paziente di avere l'intervento chirurgico nel modo migliore possibile, di avere un'adegenza postoperatoria seguita e ben strutturata e un percorso riabilitativo all'interno della nostra struttura che lo porta a una guarigione direi in tempi rapidi ma soprattutto nel migliore modo possibile, questo anche grazie ai garanzie che fornisce la struttura, la presenza di specialisti di grande valore, la struttura stessa con presenza di terapie intensive di rianimazione che danno tranquillità al paziente e al chirurgo. Il paziente una volta terminato l'intervento viene preso in carico da due infermieri di reparto, viene posizionato un sistema di monitoraggio per le prime 48-72 ore e successivamente in terza giornata viene poi alzato e messo in piedi con due stampelle dal fisioterapista e da lì inizia tutto il percorso riabilitativo che dura fino alla 20-25esima giornata dove il paziente scende anche in palestra due volte al giorno per intensificare questo percorso riabilitativo. Molta attenzione prestiamo al tema del dolore, i nostri pazienti risalgono dalla sala operatoria con una terapia antalgica peridurale che li copre per la fase acuta dell'intervento e insieme all'anestesista e al medico di reparto viene impostata una terapia antalgica successiva per permettere loro di seguire la riabilitazione nel miglior modo possibile. Circa tre anni fa la Regione ha autorizzato il Salus Hospital ad aprire 15 posti letto di riabilitazione. L'esperienza che abbiamo avuto con questo connubio con la chirurgia ortopedica protesica ha fatto sì che il miglioramento dei pazienti presi in carico immediatamente e subito nel post chirurgico, un miglioramento del recupero articolare e del rinforzo muscolare degli arti. Pertanto abbiamo un'esperienza positiva e di solito noi li dimettiamo in ventesima giornata dall'intervento chirurgico che camminano senza bastoni e che fanno le scale senza nessun aiuto. L'indirizzo chirurgico preeminente è quello della chirurgia protesica dell'anca e del ginocchio e della chirurgia anche generale soprattutto del ginocchio oltre ad altre specialità logicamente garantite da ottimi specialisti con un'utenza soprattutto del bacino reggiano, noi siamo molto attenti a realtà reggiano ma proveniente da tutto il resto dell'Italia.